Io sono imperfetto e ne sono felice, ma la bella notizia sapete qual è? Che anche voi lo siete. Tutti siete imperfetti. Tu, 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 tu. Siamo tutti imperfetti. Il problema sapete qual è? È la società. Questa società che ci impone di raggiungere obiettivi altissimi. Se non hai la bella macchina, se non hai la bella casa, se non hai il bel fisico, se non hai il bel lavoro, non sei nessuno. E alla fine siamo tutti scoppiati ed infelici. La vita è imperfetta. Noi siamo imperfetti perché siamo umani e come umani siamo perfetti così come siamo. Qualcuno dice che siamo a sua immagine. E se siamo a sua immagine, siamo perfetti. Mi conoscerete. Forse qualcuno mi conosce, forse qualcuno no. Io sono il papà di Alba. Alba è una bambina con la sindrome di Down. La nostra storia ha fatto il giro del mondo e ancora mi domando il perché. Siamo conosciuti ovunque. Forse a volte mi sono detto perché i due imperfetti si sono incontrati. I due handicappati della società hanno trovato una loro strada. Io, uomo, single, gay, con un forte desiderio di paternità e lei, bambina neonata, lasciata in ospedale dalla madre, rifiutata da tante coppie per la sua sindrome di Down. Per tanti noi siamo un'espressione di imperfezione. E invece per me Alba è perfetta così com'è. Sapete perché? Perché la disabilità di Alba non mi spaventa. Questo non vuol dire che io non abbia considerazione del suo problema. Ma la questione è guardare la persona. C'è prima Alba, c'è prima la bambina e poi c'è la disabilità. Qualcuno mi ha chiesto, ma se tu avessi una bacchetta magica, la guariresti Alba? Non ci ho dormito una notte. Sapete, poi quando diventi padre, ti fanno un interrogativo su tuo figlio, non ci dormi la notte. Alla fine mi sono detto no, io Alba non la guarirei. Innanzitutto Alba non è malata. Ha la sindrome di Down. La sindrome di Down non è una malattia. Ma poi perché abbiamo tutti questo vizio di voler curare per forza tutto, di voler guarire e rendere perfetto. Chi si può arrogare il diritto di stabilire chi o cosa è normale? Chi si può arrogare il diritto di stabilire che cos'è la bellezza? Chi è bello e chi non lo è. Per me Alba è bellissima. Ed è una bimba perfetta, nonostante la sua disabilità. Vi voglio raccontare una storia. Una storia che per me è stata molto importante, che mi ha reso più grande. Tra le tante esperienze di volontariato in India e in Africa, sono arrivato anche a Lourdes. Avevo 16 anni la prima volta, col treno bianco. Voi sapete, il treno bianco ha una serie di vagoni e c'è il vagone del barrellato. Il barrellato è quel vagone dove ci sono tutti gli ammalati gravi, che sono in barella e fanno il viaggio distesi. A quell'epoca io conobbi Luigi. Aveva 30 anni. Alto, Bruno, un ex surfista, un fisico pazzesco. E già era nel barrellato. Quando vedi Luigi, era disteso e la madre gli manteneva le gambe per cercare di non farlo andare di qua e di là con il camminare del treno. Allora gli proposi alla madre di sostituirla, pensando, vabbè, un'oretta. Lo conoscerò. Parlammo tutta una notte. Parlammo tutta una notte io seduto, curvo, a mantenere le gambe di Luigi. Parlammo della nostra vita, dei nostri desideri, dei nostri progetti, delle nostre ispirazioni. Parlammo della sua malattia, della sclerosi multipla. Quando arrivammo all'URD, all'alba, io chiesi Luigi, che cos'è che ti fa più paura? E lui lucidissimo mi disse, l'indifferenza è la gente che prova pena per la mia condizione. Io e Luigi siamo rimasti amici per tutta la vita, per tutta la sua vita, e lo siamo ancora. E l'ho accompagnato nel viaggio più importante della sua vita. Eppure io vi assicuro che nonostante la sua cecità, nonostante la voce che non c'era più, nonostante il suo corpo completamente paralizzato, Luigi era una presenza. La vita non è perfetta, la vita è imperfetta, noi non siamo perfetti. C'è un problema, un problema serio, che molti confondono. Ci sono gli ammalati e ci sono i disabili. Gli ammalati si trovano in una condizione di passaggio, o guariscono o non ce la fanno. Luigi non è guarito. E poi ci sono i disabili. I disabili non sono ammalati. Si trovano in una condizione di vita stabile. Alba non è ammalata. È una disabile. Una bambina diversa. E questo è il problema. Il problema è capire che la gente non riesce a vedere nelle persone disabili la persona e poi la disabilità. La vita non è perfetta. Noi siamo imperfetti. Io ho scelto di portare i miei difetti come esempio. Perché sono i difetti che ci rendono unici e irripetibili. Sono i difetti che ci rendono umani. La vita non è perfetta. Grazie. 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 Grazie.